Dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, il piacere di stare insieme all'insegna della buona musica, dell'inogastronomia e dell'arte, una ricetta vincente per Leporano che la popolazione ha decisamente promosso, approvato con gioia e con partecipazione. Sì, questa serata è musica nei vicoli, c'è tanto entusiasmo, tanti giovani, ci sono nove gruppi che si esibiranno nei vicoli del centro storico, ma tanta cultura, arte e enogastronomia. Che dirvi, dalle riprese che vedrete è una serata veramente all'insegna dell'aggregazione. Soprattutto anche molta musica, lo facevo notare, lo notavamo con i Terraross, all'insegna proprio delle tradizioni popolari. Sì, il lì abbiamo avuto una serata di pizzica, questa qui è un'altra serata con i Terraross che riproducono tutta la musica popolare, la musica che ci appartiene, che ci porta alle nostre radici, la musica pugliese. L'Eporano che è di fatto il comune capofila, il comune guida per quanto concerne appunto lo svago, il divertimento, lo stare insieme che solo l'estate ci sa dare. Sì, l'amministrazione comunale ha voluto proprio considerare questa opportunità di organizzare un calendario estivo con 40 appuntamenti dove aggrega tutta la provincia e non solo, anche chi viene a trascorrere qui a Leporano le vacanze. Il nostro spot è Restate a Leporano.